Per giugno saremo pronti anche con la bonifica di quello che è la fontana di Piazza Capuana presso Fano 2, dove appunto sarà prevista una fioriera e dei nuovi arredi sulla piazza di fronte alla chiesa, che a gran bocce il quartiere ci chiede per rendere ancor più vivibile quel luogo. Sposteremo le attuali panchine nell'area verde e nell'area verde cercheremo di ripristinare anche tutto quello che è la seduta in calcestruzzo, che oggi è ammalorata, ha una parte di legno deteriorata e anche tutta la parte sottostante. Sicuramente coinvolgeremo anche il quartiere nel rifacimento proprio di street art, quindi per dare ancora maggior colore e vivacità a quel luogo in un secondo tempo a lavori avviati. Quindi aspettateci perché sarete coinvolti anche voi.